Allora siamo in diretta a questo posto dall'altra parte del mondo, in Filippina. Possiamo vedere questo resort con le palme e l'albero secolare che ancora non so il nome. Un paradiso non molto noto alle nostre parti, questo è il famoso Oceano Pacifico, famoso, grande, con le sue bellezze. Un'altra parte, un'altra parte.